bravo che fai sport per svegliarmi ho pensato bene di mangiare qualche biscottino ecco ma scusate una cosa ne mangi due giuro due tipo due o tre ed è già finito questo pacco preferivo la scatola di prima che ne mangiavi tantissimi ma non finiva quasi mai praticamente non te ne accorgevi invece con il tubo che sembrano che ce ne siano dentro contati e te ne accorgi subito se ne mangi troppi ma nascosti qua dietro mi spieghi cosa stai facendo amore il tutto per mettere uno specchio praticamente come dicevo oggi giornata di shooting mi ha raggiunto anche nico vinci che non ha i capelli per delle foto speciali e per l'occasione ho deciso di tenere i capelli naturali ricci ma con un tocco in più che poi vi farò farò vedere io ieri sera li ho lavati con con la linea curl e manifesto la nuova linea di kerastase per capelli ricci per tutti i tipi di ricci da quelli super ricci a quelli un po più un po più mossi però dopo averci dormito con l'umidità con l'aria condizionata eccetera oggi erano un attimino un po più appesantiti un po più scesi quindi nico me li sta riattivando si dice così ravvivando 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 con appunto un prodotto della linea la linea curl e manifesto di che era stato ve lo mostro meglio quindi verranno ripresi tutti tutti così cosa hai nascosto ok shooting finito abbiamo fatto queste foto al tramonto adesso non riesco a far rivedere nulla ma domani vi faccio vedere i backstage eccetera secondo me sono stupende intanto adesso non stiamo magnando sono venuti due pizzaioli ciao wow posso posso bene devo mamma mia che caldo che fa qua davanti al camino beh sì volete fare la sala eh no 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 e soprattutto guarda se si attacca o no si attacca ecco benvenuti a una puntata di super quack questo si chiama capasone lo venivo utilizzato per metterci dentro il vino però bellissimo che basta si chiama così giudici qualcos'altro eh no non 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 Grazie.